Carissimi amici, amiche, salve a tutti, benvenuti sul canale. Ormai siamo arrivati a Fesagosto e i temi caldi sono sempre gli stessi, anzi domani penso di fare proprio un video specifico sul Fesagosto, ma oggi, per quanto riguarda la riflessione sul caso di Liliana, oggi è stridente pensare a questo periodo così di vacanza che dovrebbe essere di spensieratezza con la situazione che si è venuta a creare. In tempi normali credo che questa donna, magari me la immagino almeno in questo periodo di Fesagosto, andare in giro, certamente lei che amava la natura, i paesaggi, i luoghi belli, certamente me la immagino felice, magari in bici, in auto, a piedi, vagare per sentieri, fare magari un bagno in qualche lago dalle fresche acque. Invece, oggi quasi ci sta qualcuno che vorrebbe stendere un velo pietoso, vorrebbe stendere un velo su questa vicenda con la fretta di archiviare qualcosa che è di difficile soluzione, per cui somiglia a quando si prende un po' il pattume e si mette sotto il letto per fare in modo che non si veda. Però vedete, il dolore non si sospende, il dolore non si cancella. Anche se interessa soltanto a chi lo vive in prima persona, perché poi per il resto diciamo che ci si immerge un po' nella confusione, come se fosse una droga per l'anima. Quindi, quest'oggi, prima di fare il video sul Fesagosto, noi non parleremo delle avventure estive, non parleremo di ciò che vogliamo fare per la giornata di domani, ma parleremo ancora di questa donna, di questa donna a cui, a mio avviso, è stato tolto il sorriso, perché in maniera o diretta o indiretta, certamente, ci sono delle responsabilità. Ormai la stampa ha fatto parzialmente marcia indietro rispetto alla notizia un po' frettolosamente data nei giorni scorsi di caso chiuso, di caso ascriviato, risolto il caso Liliana, avevano detto questo in maniera molto affrettata, molto superficiale. E di questo io mi sono dispiaciuto. Però poi ho tratto, come dire, soddisfazione dal vedere come tantissime persone poi hanno fatto marci indietro e mi hanno dato atto che le mie perplessità erano perplessità molto condivisibili. Quindi un po' dappertutto si legge un po' lo shock, la meraviglia di trovarsi di fronte a delle affermazioni che, a dir poco, sono strane. Ho sentito anche il video dell'amico Paolo Amaro, che ovviamente, come al solito, molto preciso, molto dettagliato, e ha dalla sua anche la diplomazia, perché in effetti ha cercato di scavare a fondo nella possibilità che questa seconda perizia contenga delle verità. Io sono molto meno diplomatico e dico che, innanzitutto, questa perizia non è ancora ufficiale, e quindi non è ancora stata depositata. Però comunque, certamente, senza mancare di rispetto alla persona, posso dire che, qualora le indiscrezioni venissero confermate, è qualcosa veramente di risibile. perché il voler far risalire la morte di Liliana al 2-3 di gennaio equivale, giustamente, a fare due ipotesi, una della fuga volontaria e una di un rapimento. Ipotesi che, secondo me, non trovano alcun tipo di riscontro, ma nemmeno con tutta la buona volontà, perché, ovviamente, di fuga al 120% non può essere, perché non si fa una fuga senza nulla, e il rapimento, credo, altrettanto, perché un rapimento viene organizzato, viene organizzato nel prima, nel durante e nel dopo. Anche poi, diciamo che si fa l'ipotesi anche del rapimento in casa, ma non si tiene conto che, per quanto mi risulta, ci sono le immagini delle telecamere. Quindi, diciamo che non è minimamente difendibile questa seconda perizia medica. Veramente è qualcosa che rende un cattivo servizio alla scienza, alla logica, al buonsenso, alle indagini. Dopo otto mesi ci troviamo di fronte a un nulla. Ci troviamo di fronte a qualcosa che, se nella prima perizia medica ci stavano degli elementi di certezza, adesso tolgono dalla scena anche questi elementi di certezza. se si dice che i resti del cibo sono quelli, non si può, non si può presuppostare che siano gli stessi dopo venti giorni, a parte tutta l'assurdità che è intorno, ma come pure per la depilazione fatta da Liliana perde le terme, si dice, ma potersi che dopo venti giorni la ricrescita non ci sia stata, sia stata minima, perché ha una certa età, la ricrescita è più lenta. Sì, amici miei, ma noi stiamo parlando di una autopsia, ma voi sapete di cosa noi stiamo parlando. L'autopsia è una indagine, dovrebbe essere un'indagine così approfondita che anche riguarda la ricrescita. Non si parla di una ricrescita molto visibile ad occhio nudo pure, ma da una perizia medica si vede se la ricrescita, compatibilmente con l'età, è una ricrescita di venti giorni, di dieci giorni o di un giorno, perché anche se minima si vede. Poi non lo vogliamo dire questo, vogliamo far finta di niente, non lo diciamo. Quindi, che vi devo dire? Almeno la decenza di non fare affermazioni, di mettere tutto al condizionale. Io non conosco questo dottor Fulvio Costantinides, come si chiama, non metto in dubbi i suoi titoli attestati, i master, però tutto ciò che si afferma purtroppo non può essere in contrasto né con quanto affermato precedentemente, né con la logica, il buonsenso e tutto il resto che di cui noi abbiamo discusso in questo periodo. Quindi, non è possibile, ad esempio, far conciliare, come dire, ma per dirne una, ad esempio, la condizione di questi sacchetti messi sulla testa, che erano sacchetti che consunti, ma consunti, che stavano lì, ovviamente, forse da da oltre 20 giorni, e invece, facendo risalire la moto al 2-3 gennaio, dovevano essere sacchetti di 2-3 giorni, non è così, non è così. Come pure, libri segni di asfissia nella prima perizia, adesso si parla di asfissia, e poi si parla di asfissia con sacchetti non stretti sulla testa. Si diceva, vabbè, ma quello respirava l'aria, l'anidride carbonica che stava nei sacchetti, ma sapete che c'è un istinto di sopravvivenza nell'essere umano. Nel momento in cui tu sei proprio costretto da una busta che, diciamo, sta proprio stretta sul collo, magari, disperatamente, non ce la fai a togliere, ma se non è stretta, l'istinto di sopravvivenza la meglio, quindi, ma, vedete, l'amico Paolo ha cercato di dare una spiegazione, perché lui è un galantuomo, e quindi cerca di non mancare minimamente di riguardo e di rispetto al lavoro fatto da alcuni medici, ma io nemmeno voglio mancare di rispetto, ma dico semplicemente che le conclusioni se saranno confermate, perché qui poi alla fine parliamo di anticipazioni, verranno certamente queste conclusioni, saranno veramente conclusioni che non possono avere alcun peso in questa vicenda. E allora si è cercato di dire ma vuoi vedere che è stato tratto in inganno questo medico legale e anche questo è strano dal fatto che il corpo sia rimasto ben conservato per 20 giorni. E dove poteva rimanere ben conservato per 20 giorni? Allora si sono fatte mille concetture. Allora è stato congelato, non può essere congelato scongelato altrimenti sarebbe risultato. Bene, allora soltanto poteva essere in un luogo con una temperatura prossima allo zero. Si è parlato del cosiddetto congelatore, tipo un congelatore a pozzetto. Ma io rifletto su questo. Possibile mai che allora ci troviamo di fronte a un killer professionale? Cioè è possibile mai che da una mostra cosiddetta casuale si è di fronte a un killer così intelligente, così rapido, così fermo che abbia una seconda case in cui c'è un congelatore a pozzetto che lui regola a una temperatura di circa un grado per fare in modo di mettere il corpo dentro. A me sembra come dire una ipotesi da libro giallo o niente di più. Non credo che questi personaggi che ruotano intorno alla vicenda abbiano potuto mai escogitare in quel momento in quei momenti così questo progetto a meno che non bisogna presumere un omicidio proprio premeditato in tal senso ma lo trovo ancora più difficile e da allora non rimane altro per giustificare la conservazione del corpo non rimane altro che un corpo conservato fuori città in montagna in montagna fuori dai confini sul calzo solo così si potrebbe pensare pensare alla conservazione del corpo in una non so in una località una grotta qualcosa dove la temperatura è gelida ma che può oscillare appunto di 3-4 gradi intorno allo zero solo così il corpo diciamo si può abbastanza ben conservare nulla togliendo al fatto che la morte è avvenuta sicuramente quel 14 dicembre quindi poi c'è da dire bene ma allora un corpo che è stato così bene conservato in montagna per quale motivo lo si mette nei giardini dell'ex OP io sono sicuro che è collegato questo fatto o a quella scusa diciamo del 30 dicembre nella quale Sebastiano esce per aiutare il figlio e non parlo di scusa da parte di Sebastiano perché Sebastiano esce per aiutare il figlio quella notte e sicuramente va a aiutare il figlio perché il suo telefono è stato controllato eppure quello del figlio per cui sicuramente c'è stato questo intervento ma io credo che qualcuno abbia potuto prendere la palla al balzo per dire bene profittando dell'uscita di Sebastiano possiamo fare questo spostamento magari un domani dando i sospetti sul marito oppure prendendo spunto da quel post di Fulvio Covalero che appunto scrivendo come se fosse Liliana scriveva caro conosciuto hai passato bene la festa di Capodanno invece a me mi hai lasciato lì dove mi hai trovato senza una degna sepoltura e quindi può darsi che anche queste parole abbiano toccato l'animo di una persona che comunque in qualche modo doveva a modo suo aver voluto bene a questa donna per cui magari il fatto della degna sepoltura ha fatto in modo da indurre questa persona a recuperare il cadavere e metterlo in una posizione in un luogo dove poteva essere trovato e allora purtroppo ai me gira e volta dato che i sospettati sono esempi gli stessi mi sembra ben strano ancora una volta la posizione di Claudio e dico strano non voglio accusare però vedete è strana la posizione perché è la posizione di una persona che fino al 2-3 gennaio non gli viene alcuna intuizione di fare le segnalazioni alla polizia di dire andate a vedere lì ai giardini non lo dice poi quando gli viene il 3 gennaio questa intuizione potrebbe andare a vedere lui insieme con Salvo ma non ci va e va solo in polizia e la polizia poi subito va a vedere e trova lì il corpo è ben strana questa coincidenza amici miei è ben strana come è strano il sospetto anche quel suo viaggio in Slovenia a trovare la la cugina Silvia la cugina di Liliana in un contesto abbiamo già visto di un paesino di poche anime per cui sembra una scusa più che una verità perché è impossibile che non venga trovata e quindi si può pensare fa che sia andata a fare altro questo non lo possiamo sapere ma lui giustamente ci offre la ricostruzione forse il suo subconscio ce la offre io credo che lui abbia perfettamente ragione quando dice qualcuno l'ha presa in macchina hanno avuto una discussione gli animi si sono accesi è successo qualcosa vuoi un malode vuoi una mano messa sulla bocca un cuscino messo sulla bocca qualcosa e qui Liliana ha perso i sensi è morta gli è venuto un attacco cardiaco in quel momento laddove gli è venuto questa persona ha provveduto a nascondere il corpo probabilmente se dalle verizie mediche risulta questo ottimo stato di conservazione che potrebbe far supposare una mostra da pochi giorni vuol dire che il corpo è stato conservato benissimo dove? in un luogo freddo non troppo freddo perché sotto zero si lacerano i tessuti ma in un luogo freddo come una grotta in montagna o qualcosa del genere dove la temperatura uscilla fra i zero meno uno più due più uno e lì è stata finché magari questa persona o queste persone non hanno avuto un moto di coscienza una rivolta della loro coscienza per dare una sepoltura a una persona che in fondo si voleva bene una persona che non aveva fatto del male a nessuno voi immaginate una persona che andava d'accordo con tutti che non aveva nemici di cui ne parlavano bene tutti da Sebastiano a tutti gli altri amici come poteva restare cadavere in un luogo isolato ed allora ecco che per dare una degna sepoltura è stata fatta in questo modo ed è ben strano che questa intuizione di trovare il corpo di andare a cercare il corpo sia venuto a salve a Claudio proprio in quei giorni io lo trovo estremamente strano come pure le fasi del ritrovamento in cui abbiamo un Claudio che dice non c'è bisogno di fare discontri senza altre lei ho avuto ragione ho avuto ragione sono dubbi dubbi che rimangono però ovviamente sono sempre legate all'ipotesi di una morte avvenuta quel 14 di dicembre altre ipotesi altre ipotesi con rispetto parlando sono ipotesi peregrine ipotesi troppo troppo difficili per essere accettate anche l'ipotesi di un'aggressione in casa più volte paventata io credo per quanto sono come dire le mie informazioni decadono perché c'è il presupposto delle immagini delle telecamere se come dico io c'è la prova che Liliana è uscita di casa quindi tutto ciò che è avvenuto è avvenuto fuori da quella casa e fuori da quella casa è avvenuto in un modo certamente non credo in un modo premeditato per cui tutto ciò che è avvenuto quella mattina è stata una grande confusione e poi come tutto come avviene spesso i casi si complicano sapete perché o quando c'è una grande organizzazione a monte o quando c'è una grande confusione i due estremi si toccano perché la grande confusione alza molto fumo e quindi alla fine non fa capire niente a nessuno quindi adesso domani parleremo di festa agosto però vi invito ecco a non dimenticare ecco a non dimenticare a non abbassare l'attenzione su questo caso questo è un caso emblematico molto importante perché se si abbassa l'attenzione si rischia sicuramente l'oblio della vicenda poi non meravigliamoci come è avvenuto in altri casi come Serena Mollicone come il caso di Denise eccetera che dopo passano dieci anni quindici anni vent'anni si riapre il caso perché una persona ha detto qualcosa e poi non c'è più alcun riscontro io mi auguro che invece riscontri a Zivino presto però è stato molto grave leggere l'altro giorno quei titoli di giornale a fotocopia che annunciavano la la soluzione del caso la fine della fine dell'inchiesta il suicidio di Liliana perché non siamo né alla fine dell'inchiesta forse siamo all'inizio di questa inchiesta né sappiamo quando è morta né sappiamo come è morta e né sappiamo se è suicidio o meno dopo otto mesi siamo ancora punto e a capo grazie amici miei appuntamento a domani e buon feste agosto a tutti quanti voi grazie a tutti